Perché poi lo sanno tutti che il tapping lo usano solo gli scarsi. Perché quelli bravi cosa usano? Ma come cosa usano? Alternate Picking! Sweep Picking! Legado! Ah ok, scusa, scusa, hai ragione. String Skipping! Guarda, sei proprio un fenomeno, ma perché vieni a lezioni di chitarra? In realtà perché mi piace l'allieva che fa lezioni di pianoforte di là.